Dite alla signora che è arrivata a un salato di Raffanillo, eh? Lì? No, 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 non sembra caretti! L'avvocato, 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 l'avvocato. L'avvocato! L'avvocato! Eh, civile animale! E come vi permettete? Civile penale! Ah, e allora a favorita è da questa parte? Vengo sabato! Perché mo' me ne andate? Vengo subito! Hanno fatto il saciccio, sì! Quei qui eri? No, no, hanno fatto il pasticcio! Non ne parliamo! È solo da spetta un animale, eh? Ma che stai dicendo? È solo spetta un legale! Ti metto la mano in due cazzuna! Ma per carità! Di me, di me, di me, di me, di metter mano alla situazione! Non era un problema! Scusate, ma voi siete proprio avvocati! Ah, no, no, no! È la lingua, adesso! È bene su accorto! Ne, io voglio sarebbe bevemi, la trippa! E ora voglio sarebbe vedere! Perché ti hai bisogno di confidenza? Con chi? Perché ti hai bisogno di confidenza! Io ti do un coniglio, sai? Ciò facci fa la cacciatura! E' a morire, a che sucio? Io ti do un consiglio! Ti rimu'cazione! Ah, Gì, guarda male! Viene educazione! Se no li parto con lo pallone! E il signor mi trasferta! Se no li parlo con lo padrone e ti faccio cenare! No! No, è troppo, no! E ti faccio cacciare, capito? Ma già, sei da questo tu! Ecco, fatti i fritti! 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 E' una ischia! E' una ischia! E' un contrast! E' una ischia! Ma sembra con la testa morta a nasa! No, che impressione! Sembra con un... un testimone di nasi! Oh, signor! Eh! La carne bollita a partiglia! E io porto l'insalata! Ecco! La carne bollata! E' una carne bollata! E' una carne bollata! E non mi fate pigliare dallo stimolo della cotoletta! Dalla carne a prima mattina! Dallo stimolo della vendetta! Ricordatevi, signore, voglio schiattare il pallone, voglio schiarire la questione. Signore, arriva a Lecce, arriva a Lecce, arriva a Lecce, arriva a Giaccio, arriva a Lecce, arriva a Giaccio, arriva a Lecce, arriva a Giaccio. È stato buono, signore.